Giulianova, il giocro si svolgerà sulle tre riprese da tre minuti, arbitra il signor Agnello Falvieri d'appoggia. Grazie. Quanti secondi. Inizio della prima ripresa. Vai Marco! Inizio della prima ripresa. Inizio della prima ripresa. Come inizio della prima ripresa. Andiamoci con la ripresa. Vazica inizio di prima ripresa. Faccia inizio della ripresa. Bli eh sc一起 ripresa. Ciao a tutti. Marcello, la sprappare la ripresa è decorata. Mi eh scopo a tutti. Malcmati, la sprappare la ripresa di piccolo. Gli stessi di piccolo. Andrea! 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 Vai Marco! Bravo! Vai Marco! bravo Marco bravo Marco si si Marco vai tu vai Marco subito subito fin de la prima fin de la prima